ok a posto vabbè diciamo che diciamo che questa fase qua è easy quella che mi fanno lì l'anzi è quella dopo comunque andiamo avanti ok consiglia le lacrime del drago di vino consiglia le lacrime del drago è sempre il fiore prima questo punto non 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 No. Grazie. Uuuh, sei diventato uno sculto pure. Questo sarebbe infiale e base, se capirà bello. Ricordo ancora il primo... Decisione Immortale. Ricordo ancora il primo teaser di sto gioco all'epoca, tanti anni fa. Nello stesso anno, cioè lo stesso evento in cui fecero anche il primissimo trailer di Bionetta 3, che poi scomparre per anni. In pratica mi ricordo tutte le congetture all'epoca. E' il nuovo Blood Board. Cioè, in quel trailer si vide... Si vide in pratica... Si, perché quello si vide solo il braccio. Ma da sto braccio... Dissero, è il nuovo Blood Board. No, è Tenchu. Stanno facendo Tenchu. Invece è una nuova ep. No, pur che altro... Io ho disegnato qualche skin nuovo. Qualcosa che c'è. Ah, l'ho battuto lui. Il demone dell'odio. Chi se ne frega. Ok, la live più breve del mondo sarà questa. Purtroppo, io... Sì, vabbè, ma ce l'ho qua. Lo posso riprovare quando ho io. C'è uno strano di riprovare quando ho io. La live più breve del mondo, purtroppo io non so com'è. Non credo ci sia un modo... Ci sia un modo per... Con lo streaming PlayStation di... Non interrompere la live. Perché non... Cioè, si interrompe anche quando vado nella home. Cioè... Non è che... Chiudo tutto e si stacca, ovvio. Diciamo che la prossima è in titolo sette e mezzo, ecco. Ora... Molta calma. Faccio le cose più calme del mondo. Ci rivediamo giusto tra un minuto, 30 secondi e un minuto. Cioè... 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 Cioè...